Un minuto a dirvi, a raccontarvi cosa abbiamo fatto all'interno di Runstad con le ancore, che abbiamo utilizzato proprio come strumento di vero e proprio people management. Runstad, la conoscete, è un'agenzia per il lavoro. Il nostro mestiere è occuparci di risorse umane. Quindi i 2300 dipendenti che ci sono in Italia, quasi tutti si occupano di selezione, di formazione, di sviluppo, di talent management, career management o placement. Sono 50.000 le persone che noi ogni mese mandiamo a lavorare dai nostri clienti. L'anno scorso sono state 8.800 le persone che abbiamo selezionato sono state inserite in modo permanente dentro le organizzazioni con i servizi di ricerca e selezione. In questo contesto quella che è l'experience del singolo dipendente è estremamente importante per essere molto credibile nei confronti dei clienti. I bisogni da cui partivamo erano, uno, il fatto che quando parliamo di motivazione delle persone abbiamo delle grandi politiche corporate o di company che vanno a toccare tantissimi temi. Gli item delle nostre indagini di clima danno la possibilità di fare delle chat anonime capo collaboratore per chiarirsi su alcuni punti, su alcuni commenti. E dico, ma una volta che l'azienda ha un report di questa portata, perché dobbiamo ancora parlare di motivazione delle persone? Una volta che noi sappiamo se sono contenti della loro scrivania, se ricevono feedback, se gli va bene l'orario di lavoro, se pensano che stanno crescendo, se stanno sviluppando nuove abilità, se il responsabile li sostiene, se fanno la differenza nel loro team, se hanno rapporti amichevoli con le persone, se sono contenti del loro reward. Se l'azienda ascolta questi feedback e poi fa delle azioni di conseguenza, è molto semplice dire che la motivazione non dovrebbe più essere un punto. E invece lo è, perché quando parliamo della motivazione delle persone parliamo del ruolo del manager nel colloquio e nel dialogo che ha con le proprie persone, non delle politiche dell'azienda. La politica dell'azienda è importantissima, ma quello che poi succede nella quotidianità dei nostri rapporti di lavoro è con chi ce la vediamo tutti i giorni dentro il nostro ambiente. E quindi diciamo il manager che ha questa responsabilità importante di dare feedback, di dare supporto, ecco che ha veramente anche da questo punto di vista un ruolo che è veramente centrale. Quindi avevamo la necessità di introdurre un diagnostico, magari la terminologia non è corretta, però insomma è una cosa, che ci servisse un po' di più a trattare in modo più specifico della motivazione reale della Valentina, di Andrea, e non prassi per motivare le persone in generale. Inoltre volevamo trovare uno strumento che ci permettesse di lavorare in modo più concreto sulle aspiration. Ogni anno sono circa 80 i ragazzi che entrano nei percorsi di talent development e a un certo punto incontriamo delle persone che non hanno chiaro che focus dare la propria carriera. È un peccato perché vuol dire andarsi a perdere un pezzo, una fetta importante delle persone che mettiamo in sviluppo. Poi si complica la faccenda perché sia Chiara che Andrea mi hanno raccontato guarda che spesso allo stessa persona non sono note le proprie ancore. Possono non essere collegate le proprie ancore perché sono delle convinzioni che io mi sono creato nel corso del tempo. Quindi io dico voglio fare il manager. Perché? Perché crescere vuol dire fare il manager. Magari io non sono consapevole che le mie ancore motivazionali più profonde vanno in una direzione diversa. E quindi poi quella sintonia tra quello che faccio e quello che interiormente mi completa e mi soddisfa non la trovo nel rapporto di lavoro. Cavoli, quanto sarebbe importante che questo pezzo di consapevolezza non venisse gestito nel momento in cui sono nel development center e ho a che fare con quelli dell'HR ma diventasse un momento di consapevolezza che io gestisco e conosco prima, il più presto possibile. Abbiamo iniziato un percorso con il management team della nostra azienda quindi l'amministratore delegato e i riporti diretti perché come vi dicevo un'innovazione dentro la nostra organizzazione essendo anche poi un'innovazione presumibilmente di business ci mette nell'obbligo felice di partire dal management. Quello che abbiamo creato è stato un momento in cui il nostro amministratore delegato addirittura ci ha fatto vedere le sue ancore. Quindi l'ancora è uno strumento incredibile di managing the boss che è l'arte della felicità in azienda. E poi aiuta a trattare temi potenzialmente molto difficili perché se io ho l'ancora dell'autonomia devo trovare il modo di dire al mio responsabile dammi un obiettivo, non mi dire cosa devo fare domani. E questo è un modo per andare a trattare questo tema. Lo step successivo è stato quello di fare un pilot su un dipartimento e adesso siamo nella terza fase che è quella di diffusione dello strumento delle ancore a tutta l'azienda, a tutte le 2300 persone andando in cascading rispetto alla struttura organizzativa in modo tale da far sì che ciascuno possa essere consapevole delle proprie ancore e possa andare a parlare di queste con l'azienda, con il proprio responsabile che possa diventare uno strumento attraverso cui della motivazione ci si occupa nello specifico per la persona. Quando poi riusciremo a vedere come questo strumento si lega o meno alla performance quindi il fatto di avere un ancora che mi permette di avere un ruolo molto affine la mia ancora stessa mi permette o meno di performare meno lo vedo anch'io l'orizzonte per cui le direzioni HR potranno essere molto più leader di business in qualche modo e non in quella posizione di staff che per carità va benissimo è la nostra, la apprezziamo ma forse diciamo ci potrebbe permettere di fare anche qualche capatina un po' più strategica dentro l'organizzazione. Grazie a tutti.